Il cantautore ed ex professore Roberto Vecchioni è intervenuto nella trasmissione di La Sette in altre parole ed ha parlato anche di scuola. Commentando la scelta di una dirigente scolastica di un istituto di Bologna che ha deciso di punire ragazzi bulli mandandoli a zappare nell'orto della scuola, l'ex professore ha rilasciato alcune affermazioni molto ferme e decise sul ruolo del docente. Ascoltiamole insieme. Diciamo una cosa fondamentale, un insegnante non deve assolutamente essere bassa con questa storia, amico dei ragazzi, è un'altra storia. Un insegnante è un insegnante, ha un ruolo, è un'autorità, non deve essere autorità, è un turchiarista ma ha autorità. Deve dare ai ragazzi certezze, i ragazzi non possono stare nel dubbio, è coerenza della sua vita, del suo amore per quello che dice, per quello che fa. Grazie. Grazie. Grazie.